Dopo aver fatto 13 nel 2021, l'estate abruzzese quest'anno si tingerà ancora una volta di blu nel senso delle bandiere. 14 comuni che l'hanno riconfermata e una new entry, Alba Adriatica, assegnazione che porta all'unplaying i comuni della costa teramana. Particolarmente soddisfatto della bandiera blu ottenuta per la prima volta l'anno scorso è il sindaco di Pescara, Carlo Masci, che oggi ha assistito in streaming alla conferenza stampa di assegnazione. Felice, orgoglioso, emozionato perché è sempre un'emozione ottenere un risultato importante per la propria città. Confermiamo la bandiera blu anche quest'anno. L'anno scorso sembrava una sfida impossibile ma chi conosceva la città a fondo sapeva che Pescara poteva giocarsi tutte le carte per ottenere la bandiera blu l'anno scorso. Quest'anno l'abbiamo confermata, avevamo già dei segnali lusinghieri perché l'organizzazione che è venuta a Pescara a visitare la città ci aveva detto che questa città stava crescendo dal punto di vista della sostenibilità ambientale, quindi eravamo molto fiduciosi. Il risultato è arrivato, è frutto di un lavoro impegnativo. Abbiamo coinvolto le scuole, la città cresce dal punto di vista ambientale della sostenibilità, stiamo ottenendo risultati incredibili, non soltanto il mare pulito, la bella spiaggia, gli stabilimenti balneari organizzati, ma anche una città che ha sempre più piste ciclabili, sempre più zone pedonali, corsie preferenziali per i mezzi pubblici, una città che ha puntato sulla sostenibilità ambientale anche con qualche sacrificio da parte dei cittadini. Però poi quando si ottengono questi risultati, questi riconoscimenti che ci collocano fra le città migliori d'Italia dal punto di vista della sostenibilità ambientale, diciamo che il percorso è quello giusto per far sì che la qualità della vita dei cittadini possa crescere sempre di più. Lei dice giustamente che i criteri sono tanti, però quello del mare pulito effettivamente rappresenta sicuramente uno dei criteri più importanti, è quello da mantenere per continuare ad ottenere la bandiera blu. Sì, già i primi dati ci dicono che mai il mare di Pescara è stato così pulito. Certo, se torniamo a qualche anno fa quando c'erano i vieti di balneazione che coinvolgevano tutta la spiaggia di Pescara, dobbiamo dire che veramente di acqua ne è passata tanta sotto i ponti. Oltre all'acqua c'è anche una bellissima organizzazione di stabilimenti balneari e quindi anche ringrazio coloro che ogni giorno si impegnano per questo, perché i balneatori sono le prime antenne, le prime sentinelle della spiaggia, la tengono pulita, la curano, ma anche noi facciamo la parte nostra perché abbiamo quell'ecospiaggia che è meravigliosa, quest'anno la raddoppieremo perché ne faremo una anche a Porta Nuova, sempre grazie alla FATER. C'è una collaborazione virtuosa in questa città da parte di tanti soggetti che ci tengono, la fanno crescere, è sempre più bella, sempre più vivibile. È una città che sulla qualità della vita e sulla sostenibilità ambientale ha puntato tutto e poi i risultati arrivano. Grazie a tutti.